Un cambio di strategia per noi epocale, quindi è finita un po' l'epoca dei commerciali, diciamo così, interni, venditori, eccetera, passiamo alle partnership, una partnership di strutturata con Multiservice, che per noi per anni è stato un fornitore molto molto affidabile su Brescia e adesso svilupperemo con lui come dealership una grande collaborazione sulla Lombardia. Bocca al lupo e ci riaggiorneremo presto anche sugli altri nostri canali, su Cartaccio e sul sito per raccontare insieme come sta andando questa novità. Grazie a voi sempre per l'invito e anche per l'attenzione che ci dedicate. Grazie a tutti.